Il neo-assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliante ha scelto di debuttare ufficialmente al fianco della protezione civile. Il nuovo membro della Giunta Chiodi ha infatti convocato per oggi nella sala del Polo Tecnico della provincia di Chieti gli stati generali delle associazioni di volontariato di protezione civile. Ben 130 le associazioni invitate all'incontro che rappresentano un importante momento di confronto per il territorio abruzzese. Il primo giro che ho inteso fare è stato quello che andasse ad intercettare tutti quanti i vertici apicali nelle province abruzzesi tra questi evidentemente anche quello della provincia di Chieti. In quell'occasione ho comunicato che intendevo per la prima volta, credo in Abruzzo, creare le condizioni per parlare con il volontariato sentire da loro quali sono le problematiche che in qualche misura intendono sottoporre all'attenzione dell'assessorato ma soprattutto creare condizioni per un coordinamento che fino ad oggi anche per ragioni connesse al terremoto si è mosso nella logica dell'emergenza ma che deve essere evidentemente pianificato perché in futuro ci sia un maggior raccordo, soprattutto maggiore possibilità per le associazioni di volontariato che sono un segmento essenziale della protezione civile di essere sinergici per cercare di mitigare il danno da calamità.